Ciao ragazzi, oggi parliamo di Sergio Oliva, il mito. Fuggito da Cuba nei primi anni 60, Sergio divenne una delle star principali del bodybuilding degli anni 60-70, quando vinse tre titoli di Mister Olimpia, ed è ancora oggi riconosciuto da molti come uno degli atleti con la miglior genetica di sempre. Un mass monster dal fisico altamente estetico, uno dei pochi a poter sostenere la cosiddetta victory pose. Enjoy! Sergio Oliva nasce a Cuba il 4 luglio 1941, povero di famiglia impara presto a guadagnarsi da vivere, e sin dai 12 anni lavora col padre nelle piantagioni di canna da zucchero. A 16 anni il suo padre decide di farlo entrare nell'esercito del dittatore Battista, e sebbene fossero richiesti almeno 18 anni per arruolarsi, Sergio era già alto e robusto e venne arruolato lo stesso. Anche perché all'epoca Battista cercava soldati per difendersi dalla minaccia dell'esercito rivoluzionario di Fidel Castro. Oliva si trova bene nell'esercito, ma nel 1959 Castro ha sopravvento su Battista. Sergio si ritrova disoccupato e passa il tempo in spiaggia, sognando di scappare da Cuba. Un giorno un amico lo nota in spiaggia e lo invita a scriversi ad una palestra di sollevamento pesi locale. Un gesto semplice che però diventa la svolta della vita per Sergio. Dotato di una genetica molto favorevole, Sergio cresce rapidamente e in sei mesi arriva a sollevare 136 kg nello slancio. Le sue performance sportive non passano in osservate e ben presto viene inserito nella nazionale di sollevamento pesi cubana. Fra le sue migliori alzate nella classe dei pesi medio-massimi, quindi sotto i 90 kg, ricordiamo i 127 kg nella distensione e nello strappo e i 163 kg nello slancio. Ma Sergio non è contento della sua vita a Cuba e la grande occasione per cambiare vita arriva nel 1962. Partecipe con la nazionale ai giochi del Centro America e dei Caraibi, vincendo la medaglia d'argento nella categoria medio-massimo. Ma soprattutto trova l'occasione per disertare. Riesce a deludere la sorveglianza dei suoi accompagnatori, corre al consolato americano e chiede asilo politico. Nel 1963 si trasferisce a Chicago, dove inizia una nuova vita. Conosce Bob Gaida, che lo comincia a dedicarsi al bodybuilding e comincia ad allenarsi alla YMCA, ai tempi la mecca dei muscoli del Midwest. Una palestra frequentata da numerosi campioni dell'epoca. Oltre a Oliva e Gaida, ricordiamo Larry Scott, Chuck Sipes e per un breve periodo lo stesso Arnold Schwarzenegger. Circondato da un'atmosfera entusiasta, Sergio si allena con grande entusiasmo e cresce rapidamente, sviluppando il fisico più impressionante dell'epoca. Un mass monster che riusciva ad armonizzare volumi muscolari mai visti, mantenendo un'estetica ed un'eleganza insuperabili. Con spalle enormi, vita sottile, gambe e braccia lunghe massicce. In breve si afferma sulla scena del bodybuilding americano e con un peso in gara che andrà dai 102 ai 111 kg per un'altezza di 1,78 m, nel 1963 vince il titolo di Mr. Chicago, nel 1964 ai Mr. Illinois, nel 1966 è Mr. Universo a IFBB e lo stesso anno è quarto al Mr. Olimpia. Tenta di vincere il Mr. America ma nonostante la sua superiorità fisica sembra che le giurie non vogliano un cubano come Mr. America. A lui va solo il titolo di atleta più muscoloso. E la vita in generale non è facile per un emigrato cubano che parla un inglese stentato. All'epoca il bodybuilding non pagava le spese e per sopravvivere Sergio deve fare diversi lavori, come facchino, aiuto macellaio, operaio in fonderia. Nel 1976 riesce ad entrare nella polizia di Chicago, dove resterà fino al 2000, anno del pensionamento. Di giorno lavora pesantemente e di sera si allena. La consacrazione comunque arriva nel 1967, quando vince il Mr. Olimpia, e si ripeterà nel 1968 e 1969, anno in cui scontisse Arnold Schwarzenegger. In seguito nel 1970 e 1972 arriverà secondo dietro ad Arnold, ormai pupillo e ragazzo copertina di Wither. E se vogliamo criticare Sergio possiamo dire che magari la sua routine di pose era poco curata. Poco incline alla politica e alle dinamiche di marketing, in seguito a diverse vicissitudini che lo fanno sentire discriminato, Sergio dal 1973 al 1981 lascia la IFBB e comincia a gareggiare nella WWBG prima e nella Waba poi, vincendo diversi titoli mondiali. Nel 1984, a 43 anni, viene invitato dalla IFBB a partecipare al Mr. Olimpia, dove si classifica ottavo. Ci riprova anche nel 1985, dove pur presentando un'ottima forma, colleziona ancora un ottavo posto. Sarà la sua ultima gara. Nel 1986, durante un litigio in famiglia, la moglie Arlene Garrett gli spara 5 colpi all'addome con la pistola di ordinanza del marito. Sergio si salva ma la sua carriera sportiva finisce in quell'istante. Non sarà mai più come prima. I due divorzano nel 1987 e a Sergio viene concessa la custodia dei figli Sergio Junior e Giulia. Sergio Junior in seguito seguirà le orme del padre, diventando un popolare campione di bodybuilding. Nel 2000, Sergio si ritira dalla polizia. Morirà il 12 novembre 2012, a 71 anni. Si dice a causa di un'insufficienza renale. Il mito era malato e costretto alla diamisi da tempo. Partito come sollevatore di pesi, Sergio era forte, oltre ogni ragionevole dubbio. Come bodybuilder ha provato diversi metodi di allenamento, partendo dal PHA e gli allenamenti al circuito proposti da Bob Gaida, passando successivamente all'alta intensità sotto la guida di Arthur Jones, col quale si preparò per il Mister Olympia 1972, raggiungendo una delle forme migliori della sua carriera. Lo stesso Jones riporterà di aver misurato personalmente le braccia di Arnold e Sergio, rispettivamente a 50 e 52 cm, alla faccia di quello che si leggeva sulle riviste di Joe Weaver. In seguito Sergio ritornò al pump training, favorendo in generale l'uso dei pesi liberi ed un più elevato volume di lavoro, che otteneva facendo abbondante uso di superserie. Guardando Sergio in allenamento si nota un ampio utilizzo di ripetizioni parziali e bisogna ricordare che come eredità della sua carriera nel sollevamento pesi si ritrovò con articolazioni ipermobili, cioè con un arco di movimento insolitamente ampio, che lo rendeva ad alto rischio di infortunio. Quindi spesso Sergio evitava di estendere completamente le braccia, ad esempio nelle distensioni su pancre. Lo vediamo in azioni in alcune clip dell'epoca dove Alina il petto. Uno dei pochi punti deboli di Sergio era l'alimentazione. Era noto per il formidabile appetito e per il fatto di indulgere in dolci e bevande gassate anche in prossimità delle gare. Anche in questo caso la sua genetica lo aiutava a non ingrassare troppo, ma chissà che risultati avrebbe potuto raggiungere con una maggiore disciplina e consapevolezza. Per concludere riporto le parole di Arnold riguardo il suo incontro con Sergio nel 1969. La prima volta che ho visto di persona Sergio Oliva ho capito perché lo chiamassero il mito. Fu scioccante, come se avesse sbattuto contro un muro. Era così enorme e fantastico che non potevo pensare di batterlo in nessun modo. Mi sono sentito sconfitto. Sono rimasto così impressionato da Sergio che ho accettato il secondo posto ancora prima che salissimo sul palco. Non mi piace ammettere la sconfitta. Ma penso che Sergio fosse il migliore. Non c'è altro da dire. Che dire, se questo fu il pensiero di Arnold non c'è davvero altro da aggiungere. Ciao, alla prossima!